Musica Nel video di oggi inauguro una nuova rubrica Giiiiii Sfidoni Fashion In poche parole andiamo prendere due personaggi di NuSchool E li facciamo scontrare in una gara di stile Oggi si sfidano Anna e Vivian Ciao Non mi ascoltano Vabbè, Vivian in questa sfida parte già favorita Il suo outfit standard è sempre perfetto Immaginatevi se regalassi tutti i suoi vestiti Li vorrei subito Merita 10 punti E poi c'è Anna Mica scherza la ragazza eh A me fa impazzire il suo fascino street Qual come usa lei la salopette Ciao, proprio nessuno 10 punti anche a lei Non è facile decidere chi vince Infatti procederemo per categorie Acconciatura 5 punti per Vivian Abbigliamento sportivo 5 punti per Anna Accessori 5 punti per entrambe Insomma, il pareggio è inevitabile Sono due ragazze molto molto diverse Ma entrambe cool E voi? Che tipo di ragazze siete? Mi raccomando, fatemelo sapere Io mi sento un po' a metà Infatti il mio secondo nome è Vivianna Giuro Ciao, ci vediamo al prossimo video Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao Ciao